Non molto tempo fa avevamo puntato l'attenzione sulla congestione del traffico in piazza San Leonardo e sugli atti di vandalismo che vengono spesso perpetrati ai danni delle autovetture e degli abitanti di questa zona. Spostandoci poco più lontano, esattamente in Vicopergola, dobbiamo sottolineare un'altra situazione di disagio segnalata dai residenti. Questo caratteristico vicolo del centro storico presenta una particolare pavimentazione costituita da acciottolato ai lati e da una sezione centrale in pietra levigata che dovrebbe rendere più agevole il transito per i disabili e per le donne che portano con sé i propri bambini in carrozzina. Addentrandoci in questa viuzza notiamo che essa si dirama in due tratti. Quello destro, che immette su piazza San Giacomo, è perfettamente integro mentre quello sinistro offre uno spettacolo a dir poco spiacevole. L'acciottolato qui scompare del tutto e al suo posto notiamo solo voragini e buche di enormi dimensioni. Considerando che proprio in questo tratto si trova un caseggiato densamente popolato, ci chiediamo se non sia il caso di adeguare la pavimentazione a quella restante o se proprio ciò non sia possibile almeno risarcire le buche con dell'asfalto. Vicopergola dovrebbe essere un fiore all'occhiello del nostro centro, considerando che qui si trova la scuola di specializzazione per le professioni legali, che richiama giovani da tutta la capitanata e dalle regioni vicine e che durante il periodo natalizio si svolge ormai da tre anni la caratteristica rappresentazione del presepe vivente in grado di attirare tutta la popolazione lucerina. Se per diversi motivi dunque l'attenzione dei cittadini si rivolge a questo vicolo, è bene anche stare attenti affinché lo stesso venga tutelato. Si tratterebbe in fondo di un intervento di lieventità ed intervenire preventivamente affinché le piccole cose trascurate non diventino un giorno problemi insormontabili è sempre il modo migliore di agire.